Nell'ultima seduta del Consiglio regionale è stato approvato il piano regolatore portuale di Giulianova. L'iter era iniziato nel settembre del 2000. Grazie all'impulso della Giunta Marsiglio, ha detto il sottosegretario alla Presidenza Umberto D'Annuntis, si è giunti alla sua approvazione, dotando così il porto di Giulianova di uno strumento di rilevanza strategica per lo sviluppo dello scalo. Il provvedimento pianificatorio consentirà di completare il prolungamento del Molo Nord e la rifioritura delle scogliere del Molo Sud, interventi che il territorio attendeva da anni e per i quali sono stati stanziati 3 milioni 800 mila euro.